Oggi il Comune ha consegnato formalmente le aree e gli immobili dell'ex autoparco comunale di Viero Cocarabba al provveditorato per le opere pubbliche, che è soggetto attuatore ma solo per le opere di demolizione della struttura. L'operazione ha una copertura finanziaria di 3 milioni di euro. Il progetto per la demolizione si era sbloccato già nel 2022. Al posto dell'ex autoparco sorgerà una nuova sede per i vigili urbani, per la protezione civile e il rimessaggio per i mezzi. Il provveditorato è stazione appaltante, come si spiegava, solo per questa fase. Poi la ricostruzione torna in capo al Comune. La demolizione ha subito qualche ritardo perché il provveditorato è stato costretto a rivedere il quadro economico a caso dell'aumento dei prezzi delle materie prime. La storia dell'autoparco e della sua riconversione risale alla giunta a Cialente. Nella zona della stazione aveva in mente di realizzare la sede unica del Comune, idea sfumata poi con il cambio di giunta e l'amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Biondi. Per i lavori le risorse complessive dovrebbero aggirarsi attorno ai 14 milioni di euro. Sui 40 inizialmente previsti per la sede unica, una volta fatta la demolizione, si potrà cominciare a pensare concretamente al primo lotto, che consiste nella realizzazione della nuova sede dei vigili e protezione civile, ma anche nell'adeguamento del collettore. Quindi i passaggi saranno diversi. Sarà sistemato anche l'esterno, sarà adeguata la viabilità e l'accessibilità dell'area. L'assessore Vito Colonna ha spiegato che loro, come settore patrimonio, hanno solo riconsegnato l'area al provveditorato. Poi interverrà la ricostruzione pubblica del vice sindaco Daniele, che si è occupato del concorso di progettazione a due libelli. Il concorso è stato appunto su due libelli, concorso di idee e progettazione. Si sta chiudendo ora quello di progettazione per dar vita all'esecutivo. Una volta approvate queste fasi ci sarà delibera, che formalizzerà l'incarico ai vincitori del concorso. Avranno poi 160 giorni per la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Era molto importante chiudere questa fase per poter andare avanti poi con la ricostruzione. Inizierà subito la demolizione. Prima però il provveditorato dovrà bonificare l'area, cioè amianto sul tetto.